Buona domenica a tutti e a tutte. In Emilia Romagna abbiamo un costante calo dei nuovi ammalati da coronavirus e quindi anche nelle ultime 24 ore si conferma il trend del calo dei contagi. Non è invece positiva la notizia sui decessi, infatti nelle ultime 24 ore c'è stato un aumento con la provincia di Bologna come maglia nera. Ora vi do un'informazione interessante perché finalmente l'ASL ha accettato le istanze arrivate da più parti e per le quali mi ero attivata anch'io come prima cittadina per riuscire ad avere dei dati giornalieri più chiari perché se vi ricordate noi abbiamo in tutta la provincia di Bologna il numero delle persone positive in costante aumento dall'inizio dell'epidemia da coronavirus ma all'interno di questo dato oltre al numero dei decessi non riuscivamo ad avere altre informazioni. Invece da ieri abbiamo un maggiore dettaglio non per unione di comuni ma proprio come comuni. Qual è la situazione di Monte San Pietro? A Monte San Pietro abbiamo secondo i dati di ieri sera dell'ASL 10 persone in isolamento fiduciario. Il numero è aumentato di 6 unità dal giorno prima quindi eravamo scesi, nelle ultime 48 ore siamo scesi da 10 a 4 e siamo nuovamente saliti a 10 quindi abbiamo 10 persone in isolamento fiduciario. Le persone positive? Allora il dato delle persone positive è di 56 persone dall'inizio dell'emergenza con un più 2 nelle ultime 24 ore però ora abbiamo dei dati aggiuntivi sappiamo che di queste 56 persone purtroppo 5 sono decedute e quindi arriviamo a 51 però abbiamo anche 11 guariti a Monte San Pietro dall'inizio dell'emergenza e quindi vanno tolte anche queste 11 persone. Arriviamo a 40 quindi ora in totale abbiamo 40 persone positive al coronavirus a Monte San Pietro di cui 11 si trovano in ospedale mentre le altre 29 si trovano presso il loro domicilio e stanno effettuando tutto l'iter dei tamponi che è piuttosto lungo perché bisogna risultare negativi negli ultimi due tamponi ma so che la maggior parte di loro si trova ormai all'ultimo tampone e quindi speriamo di potervi dare presto dati ancora più incoraggianti. Questo però non ci deve far desistere dal fatto di rispettare costantemente tutte le limitazioni e tutte le norme e prescrizioni igienico-sanitarie. Allora ho appena pubblicato un post su facebook in cui vi do conto dell'ultima ordinanza regionale del presidente Bonaccini che è stata emanata il 23 di aprile sarà attiva da domani. Ci sono sostanzialmente due tipi di differenze. La prima e più semplice riguarda i negozi di tolettatura per animali che possono nuovamente effettuare questo servizio però con delle restrizioni molto chiare appunto e minimizzando i contatti. Invece un'importante novità riguarda il takeaway. Sarà possibile da domani per le attività che si occupano di somministrazione di cibo e bevande per quelle che sia per gli esercizi commerciali diciamo che vendono cibo e bevande facevano già consegne a domicilio e anche per quelli che sono aperti in loco e anche per le attività di ristorazione che desiderano aderire quelle del nostro territorio che vogliono aderire effettuare che cosa il takeaway ma con una serie di criteri ben precisi che ho specificato. Significa che occorre prenotare anticipatamente accordandosi con l'attività sull'orario di consegna si può entrare all'interno dell'attività solamente uno alla volta rispettando le distanze rispettando le normative e non si può fare assembramento al di fuori del negozio. Nel rispetto di tutto questo le attività che vorranno aderire le liste delle attività che vorranno aderire sono presenti in parte sul sito del comune di monte san pietro in parte sul sito cuore colli bolognesi che è il nostro sito turistico ma nel posto trovate tutti i link di riferimento. Concludo augurando una buona domenica a tutti e a tutte.